Cosa succederà nella puntata di Una vita che andrà in onda il 19 ottobre? Scopriamolo assieme. Hortensia dovrà fingere, non riuscendoci, di non provare una grande attrazione sessuale per Pasquale. Nel frattempo, il sacristan sarà impegnato a organizzare una sorpresa per sua madre. Tra Pasquale ed Hortensia è scattata una forte passione. Dopo mesi di litigo, i due hanno capito di provare una forte attrazione l'uno per l'altra che si scatenerà in un bacio passionale. Chi lo avrebbe mai detto che i due nemici per la pelle di una vita, diventassero amanti? Complice forse la vendita del brevetto del manico pulitore e la risoluzione di tutti i problemi economici della famiglia, Larubio si è lasciata andare e ora sembra una persona completamente diversa. Larubio deve però tenere segreta questa sua relazione, dato che nessuno, neanche sua sorella Rosina, deve venirne a conoscenza. Ma fingere che le cose vadano come sempre, sarà molto complicato. Intanto Imma sente la mancanza di casa sua e Guillermo decide di rallegrarla preparandole una festa tradizione valenziana ad Acacias. Organizzerà ad Acacias una festa in stile valenciano e tutti gli inquilini saranno invitati a questo grande evento. Imma ne sarà felicissima e si troverà, nonostante i chilometri di distanza, di nuovo nel mondo della sua infanzia. Intanto Lolita continuerà a voler sapere la verità. Ramon e Fidel dovranno spiegarle cosa sta succedendo. Quello che le riveleranno sarà molto duro da digerire. Grazie per la visione. Se vi è piaciuto il video, lasciate un like ed un commento. Alla prossima!